allora io ho ricominciato ho ricominciato ad andare in streaming vediamo che cosa succede vediamo se la qualità migliora mi sentite innanzitutto pronto io non noto un grande miglioramento purtroppo si sente ma qual è la qualità della la qualità del video non mi sembra molto migliorata la qualità visiva è la stessa io purtroppo ho aumentato la risoluzione guardate mi devo scusare ma sì anche a me risulta identica a prima eppure io ho salvato tutto quanto e va bene vi leggo i pedici e vi aiuto perché cercheremo di fare meglio la prossima volta allora guardate riprendo la mia matita quindi qui ho ylm armonica sferica di grado lm che è fatta tutti gli indici qui sono l ed m questo indice qui è m questo indice qui è l e poi m quindi vediamo che cosa sta succedendo adesso mi sembra un po' migliorata la qualità ho sbaglio ora è aumentata va bene è aumentata in ritardo ma andiamo avanti così allora questi fattori di normalizzazione hanno questo valore e vedremo perché si devono usare fattori di normalizzazione la cosa fondamentale è che le armoniche sferiche costituite in questo modo costituiscono una base ortonormale per le funzioni definite sulla sfera quindi se noi abbiamo funzioni definite sulla sfera pensate per esempio alla topografia anche la topografia è una funzione definita sulla sfera oppure potete prendere il potenziale gravitazionale locale o la componente che so z della gravità superficiale tutte queste sono funzioni definite sulla sfera e sono quindi rappresentabili sviluppabili in termini di queste funzioni ortogonali allora diciamo non so se fare una breve incursione sugli spazi vettoriali lineari adesso forse no la facciamo semmai la facciamo semmai domani come ricordo per ricordarvi ma no facciamola adesso via andiamo un po' avanti eccoli qui allora breve richiamo sugli spazi sui prodotti scalari e la definizione di prodotto scalare perché se no dopo non capiamo molto allora un prodotto scalare dato uno spazio vettoriale lineare B quindi riprendiamo un po' di concetti di algebra lineare dato uno spazio vettoriale B è una mappa del prodotto cartesiano è una mappa del prodotto cartesiano V per V in R spazio di numeri reali o complessi questa mappa deve avere le seguenti proprietà io qui indico il prodotto scalare di due elementi A e B di questo spazio vettoriale immaginate A e B anche come le funzioni delle funzioni definite sulla sfera va bene quindi A scalare B è uguale a B scalare A una proprietà commutativa poi lambda A scalare B è uguale lambda A scalare B e poi la proprietà associativa diciamo così che ha prodotto scalare B più C è uguale A scalare B più A scalare C va bene? quindi questa è una definizione generale ogni applicazione che ha queste proprietà può essere chiamata un prodotto scalare pensiamo adesso a due funzioni definite sulla sfera una funzione F e una funzione G le funzioni, queste funzioni definite sulla sfera costituiscono uno spazio vettoriale lineare come possiamo definire il prodotto scalare tra due funzioni definite sulla sfera? beh, possiamo semplicemente prendere il loro prodotto e integrarlo sulla superficie della sfera ci mettiamo qui anche un fattore 1 su 4 pi greco come normalizzazione perché l'area della sfera è 4 pi greco l'area della sfera unitaria nel caso complesso qui ci mettiamo addirittura una stella per indicare complesso coniugato va bene? questo è il caso più generale nel caso reale il complesso coniugato coincide con il valore stesso quindi noi possiamo procurarci un prodotto scalare prendendo questo integrale ok? questo integrale doppio sulla superficie sferica ed è quello che noi facciamo quindi con questo prodotto scalare è definito in questa maniera torniamo indietro torniamo indietro le armoniche sferiche costruite in questo modo costituiscono una base ortonormale perché? perché se io integro sulla sfera ylm e ykn complesso coniugato perché dovrei mettere il complesso coniugato anzi il kn il complesso coniugato generalmente si prende e si mette sul primo elemento beh ottengo 0 eccetto che quando l uguale k e m uguale ad n cioè tutti gli indici devono essere uguali se gli indici sono uguali questo prodotto scalare vale 1 la delta è la delta di Kronecker che vale 0 ogni volta che i due indici sono diversi e vale 1 quando gli indici sono uguali quando noi abbiamo a disposizione una base ortonormale sappiamo che è possibile sviluppare una qualsiasi funzione f in termini di elementi della base e in questo caso una generica funzione f di teta fi definita sulla sfera definita sulla sfera può essere scritta come una sommatoria infinita per l che vale a z tra 0 ed infinito ed m che vale da meno l ad l di f lm y lm dove y lm sono le funzioni della base e questi f invece sono dei coefficienti numerici ok vogliamo vedere come sono fatte le prime armoniche sferiche beh la y 0 0 vale 1 e infatti il suo prodotto vedete il suo se noi moltiplichiamo y 0 0 per y 0 0 che vale 1 quindi e lo integriamo sulla sfera otteniamo 4 pi greco diviso questo 4 pi greco quindi otteniamo 1 la y 1 0 è radice di 3 coseno di teta la y 1 1 è radice di 3 mezzi e alla i fi seno di teta e qui potete vedere tutte le altre eh di grado 2 queste sono quelle di grado 2 eh con m uguale 2 per trovare quella con m per esempio uguale meno 2 la y 2 meno 2 beh basta al posto di fi di questo esponenziale mettere un meno 2 i fi e qui per il grado 1 meno i fi d'accordo da notare che le armoniche sferiche con m uguale 0 quindi con e alla i fi uguale 1 eh e alla quando m uguale 0 e alla i fi uguale 1 sono indipendenti dalla longitudine e queste giocano un ruolo particolarmente importante si chiamano armoniche zonali e vedremo tra un momento per quale motivo ok ora prima di ehm passare al caso 3d che vedremo domani ehm diamo una descrizione che formanno queste funzioni armoniche sferiche come come sono fatte allora queste funzioni armoniche sferiche se noi passiamo al caso reale possono avere valori positivi o negativi allora si può dimostrare quella che vedete per esempio qui è l'armonica 5-0 riuscite a leggere questa che vedete qui è l'armonica 5-0 eccola qui e l'armonica 5-0 non dipende dalla longitudine quindi ha la stessa latitudine ha sempre lo stesso valore e ha ehm 5 attraversamenti positivi 5 attraversamenti dello 0 andando dal polo nord al polo sud quindi contiamoli 1 2 3 4 e qui poi in fondo qui in basso ce ne sarebbe un altro che non si vede quasi va bene sono 5 attraversamenti positivi quindi in generale l'armonica zonale di grado L ha L-M attraversamenti scusatemi ha L attraversamenti positivi dello 0 in generale l'armonica di grado L ed ordine M a L-M fatemi prendere la penna a L-M attraversamenti dello 0 andando dal polo nord al polo sud ehm qui quindi correndo lungo un meridiano per esempio qui abbiamo l'armonica ehm 16 9 di coseno nella base reale e questa ha 16 meno 9 uguale 7 attraversamenti dello 0 andando dal polo nord al polo sud 1 2 3 4 5 6 e poi ce n'è un altro che non si vede qui sotto quella che vedete è rappresentata e quanti invece quanti attraversamenti dello 0 avrà andando diciamo lungo un parallelo se ci muoviamo lungo un parallelo beh coseno m uguale 9 di 9 fi a 18 attraversamenti dello 0 se ci muoviamo lungo un parallelo qui vedete l'armonica 9 9 l'armonica 9 9 non ha attraversamenti positivi dello 0 attraversamenti dello 0 andando dal polo nord al polo sud perché l-m sono gli attraversamenti dello 0 9 meno 9 fa 0 0 queste armoniche con l uguale m si chiamano armoniche settoriali o settorali in italiano settoriali è meglio queste altre armoniche invece queste qui in cui la sfera è riempita da tessere si chiamano armoniche tesserali e queste qui invece in cui la sfera viene divisa in zone in bande si chiamano armoniche zonali ok quindi qui ci sono anche altre rappresentazioni che io ho tirato fuori dalla rete che fanno vedere le stesse cose un pochino meglio va bene in cui voi vedete appunto le zone positive e negative rispettivamente in in rosso questa diciamo in rosso e in verde qui negative in rosso e positivo in verde oppure blu quindi vedete per esempio la 60 come è fatta l'armonica 9 9 la 16 9 eccetera eccetera e diciamo ci sono qui anche altre rappresentazioni con cui potete divertirvi no queste funzioni hanno tutte diciamo lo stesso la stessa funzione giocano lo stesso ruolo delle dell'altra nota base ortonormale che voi conoscete che è la base di Fourier la base di Fourier la vedete riportata in questa slide finale in cui sostanzialmente facciamo vedere che si fa vedere si può dimostrare che ogni funzione reale sufficientemente regolare definita nell'intervallo x con 0 x con 0 più p è suscettibile di una rappresentazione in termini di serie di seni e coseni in questo modo questa è la base reale e questa invece è la base complessa se vogliamo usare i coefficienti complessi va bene una delle cose importanti delle basi ortonormali è naturalmente che ogni elemento della base ha norma unitaria prodotto scalare 1 che ogni elemento dello spazio vettoriale a può essere espresso come sommatoria di alcuni coefficienti per gli elementi della base e che se noi vogliamo trovare il coefficiente di questa rappresentazione questo a non dobbiamo fare altro che se vogliamo trovare il coefficiente a con i l'iesimo coefficiente non dobbiamo fare altro che moltiplicare a per scalarmente per l'elemento della base u con i quindi il coefficiente a con i si ottiene moltiplicandolo moltiplicando a scalarmente per u con i infatti se sostituiamo ad a questa espressione e utilizziamo le proprietà del prodotto scalare vediamo che questo prodotto scalare è fatto dalla somma di su j di tanti a con j di u con j per scalarmente il prodotto scalare u con i ma ce n'è uno solo di questi prodotti scalari che vale uno tutti gli altri valgono zero ed è quello in cui j è uguale ad i e quindi questo prodotto scalare vale a con i e questa proprietà sarà importantissima naturalmente per trovare per trovare i coefficienti flm dello sviluppo del potenziale magnetico sulla sfera adesso noi siamo arrivati al termine di questa lezione noi completeremo rapidamente mi ci vorranno altri dieci minuti domani per completare questa parte matematica che vi ricordo è fondamentale di fondamentale importanza perché la ritroverete molto spesso e invece iniziare con questi strumenti matematici che abbiamo ottenuto ci siamo procurati iniziare la descrizione del campo magnetico terrestre che ci riserverà riserverà alcune importanti sorprese va bene quindi a questo punto ci fermiamo qui io rimango ancora per qualche minuto per domande e chiedo anche se questa risoluzione è sufficiente io vorrei evitare di andare oltre questa non è 480 questa è una risoluzione superiore a 480 ora ve la dico che risoluzione noi adesso abbiamo una risoluzione sì 852 per 480 ha ragione lei 852 per 480 e volevo sapere se questa risoluzione è accettabile io vorrei evitare di andare oltre perché ho paura che se no si possa interrompere lo streaming quindi generalmente questa va meglio no prima ne avevo una inferiore mi sembra 300 qualcosa ok allora manteniamo proviamo a mantenere questa risoluzione d'accordo e fatemi anche sapere io rimango ancora qui in qualche minuto per eventuali domande non so non so se avete lezione adesso oppure altre lezioni forse sì comunque io sono qui a disposizione per qualche minuto un po' non so non so no Sì, la F e la G sono generiche funzioni definite su un dominio sferico quindi diciamo, immaginate appunto delle funzioni definite in ogni punto della sfera la topografia, la gravità verticale teoricamente voi potreste anche pensare al campo di temperatura sulla superficie sferica però questa rappresentazione non è particolarmente utile per descrivere il campo di temperatura il campo di temperatura è continuamente variabile quindi diciamo, questi prodotti scalari dovrebbero essere fatti ad ogni istante e i coefficienti delle armoniche sferiche varierebbero nel tempo continuamente quindi questa rappresentazione è utile per quantità che sono costanti sulla sfera ma che non cambiano quindi per questo nessuno si sogna di fare una rappresentazione del campo di temperatura in termini di armoniche sferiche mentre per la topografia, per la gravità, per il campo magnetico e per altre quantità che vengono usate per esempio in geodesia spaziale è una rappresentazione utilissima ed è una rappresentazione utilissima perché permette di approssimare una funzione complessa con un numero limitato di coefficienti essenzialmente questo è il suo grande vantaggio un po' come le serie di Fourier erano utili perché in realtà permettevano di rappresentare una funzione reale con ottima approssimazione usando un numero finito di coefficienti e di termini un numero finito di coefficienti e di termini benissimo allora se non ci sono domande vi saluto tutti buona giornata a tutti e ci diamo appuntamento a domani mattina alle 8 arrivederci arrivederci a tutti buona giornata a domani mattina alle 8 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 buona giornata a domani mattina alle 8